Salve a tutti ragazzi e bentornati al LOL Club Io sono Padman e sono qui con un nuovo aggiornamento sulla LOL Pack Mi trovo in un seed bellissimo Spawno proprio lì eh Adesso laggo perché sta creando il mondo la prima volta E questo seed è il mio seed degli snapshot Linux, banalmente, scritto Linux minuscolo Adesso laggo? No, non sto laggando 24, 22, sì Vabbè comunque c'è la Optifine che si può modificare Aggiunta un paio di mod tipo la More Creators Ciao Ciao Non ti fai gol, per vero? No E aggiunta il mio buco però c'è sempre Ah, diversi problemi di luce Ma per risolvere la luce abbiamo la Dynamic Light Quindi andiamo in giro e la nostra torcia ci fa luce Stai se è stato? Vabbè sui 30 fps dovrebbe andare 26, 25, 24 e mezzo, 24 e mezzo Vabbè Comunque Un bel po' di mod Quella di questi alberi qua La Tricapitator La Extra Biome Non so perché non c'è niente Si vede La Mistcraft E cos'altro c'è? Questa è della... Vabbè la Portal Gun La Twilight Forest La Meteor... Quella dei Meteoriti Faccio vedere com'è Se trovo il richiamo Non penso che ci sia Pozioni niente Ehm... Questa è della More Creators La Balcon's Weapon Twilight Forest La More Creators Questo è il cibo un po' vario Ah la... La Mob Bike Non so come si chiama Che praticamente vi fa fare questo Dai Ciao E guidare proprio un Ender Dragon Lagga un pochino Ma chi è? Sta creando il mondo Quindi non mi preoccupate Ok Vabbè E si toglie tranquillamente E cos'altro mod ho messo? Ne ho messe un po' Eh... Power Portal Gun Mistcraft Eh... Questo sono un paio di mod La Coral Reef Quella dei Coralli Se trovasse il mare La Extra Biome Molto bella I... L'Octifine La Ray Minimap Coral Reef No Non spawna la Coral Reef Comunque c'è anche quella Ehm... Mettiamo un po' La Ney Vedere cosa c'è Portal Gun La Backpack No la... O comunque quella degli zaini Dove possiamo avere gli zaini Dove possiamo avere gli zaini La New Dungeon Molto bella per questi dungeon Scheletri E... Ma già la conoscete sicuro Che... Cos'è? Vabbè Comunque Eh... Vabbè si la conoscete già questa Volevo dirvi altre mod Cosa ho caricata? Eh dai Vai su Ero così alto? Vabbè Vediamo un po' La Balcon Sweepon La Twilight Forest La Rob Plus Poi ho messo anche questa mod qui Cosa succede? Lo vedete? Questo Cucu Eccolo qua Bello grosso Questo non è altro che un meteorite Dovrebbero spawnare anche normalmente Eh... Dovrebbero esserci anche Ai lati rompendo questa roba Questo ghiaccio Questo è ghiaccio Dovrebbero esserci anche delle ceste Comunque Delle ceste per creare le armature Oh... Cos'altro? Volevo mettere Eh... Mod di Nuove dimensioni Ma sembra che non siano compatibili con Con niente Vanno solo loro La Rob Plus L'avevo già vista La Twilight Forest Non sono tante mod Ammetto non sono tante Ma... Oh cavolo Eh... Non ha bug È magari un po' lenta nella creazione del mondo E basta Perché ho visto che un paio di mod Non sono completamente compatibili Ma funzionano perfettamente Un delfino La Coral Reef Però no Eh... Questa la Coral Reef Big Boh... Comunque Fatemi sape... No Eh... La mod Diciamo che il pacchetto non è completo Perché servirebbe ancora Eh... La Cam Craft Che volevo mettere La Dog Talent Ovvero quella del cane immortale Che si dà all'inizio del gioco Eh... Proprio cos'era Un'altra Eh... Che ci dà solo tre cuori E man mano con l'esperienza si aumenta Tipo quella della Yokebox E... La... Volevo metterla Equivalent Exchange 3 Perché io vi voglio fare un pacchetto Come l'avevo già annunciato Un pacchetto dove Eh... Non ci sono macchinari A meno ci sono il meno possibile Perché non è fatta per Eh... Costruire Macchinari in una casa E stare in casa Questa mappa Mh... È da portare in giro Infatti Ne approfitto Perché questa mod Si gioca con il Game's Rule Keep Inventory True Ovvero l'inventario che si perde L'inventario quando moriamo Non si perde Per il semplice fatto Di andare a esplorare Così E... Bug nella creazione del mondo Non male Quindi mancherebbe Mancherebbe Poi bisogna vedere L'Equivalent Exchange La Camp Craft La Dog Talent Ehm... Mi sembra qualcos'altro Se non ricordo Ehm... Bellissimo Questo albero Infinito Quasi È praticamente Infinito E nient'altro Ah, è quello Dei tre cuori Di vita E basta Mh... Quindi Fatemi sapere Soprattutto con un commento Qua sotto Se volete Che la mod Rimanga La 1.4.5 Perché questa è La 1.4.5 Le faccio vedere Ah, comunque Il menu veloce Menu quello Ehm... Non mi ricordo Cleaning menu Mi sembra che si chiami La mod Adesso non mi ricordo Bene Ehm... Ditemi se la volete Che rimanga La 1.4.5 O... Ehm... E quindi Dovrebbe uscire Prima di Natale Almeno Vabbè Comunque Questo vi lascio il pacchetto E dovrebbe essere Praticamente finita Ehm... Vi lascio il pacchetto Se volete giocare Infatti divertirvi Con questa mod Se no Ditemi se la volete La 1.4.6 Cosa cambia? Ci sono solo Gli slab Di nether brick Ah, ci sono Il nether ore Ovvero Se lo trovo Comunque I minerali Nel nether Vedete? C'è anche Il copper E il tin Che al momento Non ho ancora messo a mod Ma ce la metterò Quindi non preoccupate Ehm... Ditemi voi Se volete Se ci sono altre mod Di dungeon Soprattutto La La better dungeon Non si è più aggiornata E non sembra Che non si aggiornerà più Quindi Purtroppo Ho messo La new dungeon Ho messo La Battle tower Quella delle torri Non è compatibile Crash al gioco E non carica il mondo Quindi Non è compatibile Sembra con La Extra biome Quindi Commenti Per migliorarla Quindi Altre mod Da inserire E soprattutto Se la volete Alla 1.4.5 Sperando che le mod Si aggiornino Anche lì Tipo la Equivalente Exchange Che deve ancora Uscire O se Vi va bene Alla 1.4 Cioè Si Se la vi va bene Alla 1.4.5 Se volete Che aggiorni Tutte le mod Alla 1.4.6 Non penso Che l'aggiornerò Molto frequente Perché è abbastanza Uno sbatti Proprio Detto in gergo Uno sbatti Aggiornare Tutte il pacchetto Quindi Sono a 10 minuti La giornata Sta per finire Quindi vi lascio Con una domanda 1.4 .5 E 1.4.6 Scrivetelo qua sotto Suggeritemi altre mod Magari sui dungeon O comunque Niente macchinari Industrial Craft Build Craft Non le metto Ve lo dico subito Non le metto Fatemelo sapere Quindi qui da Padman è tutto Un saluto da LoL Club E Ciao a tutti Albero tagliato Che bello Grazie a tutti